Come il fatto di questi rubri di opposizione si ritirà i propri indiettamenti? Chi ha scelto il debito contingentamento dei debiti? Il fatto che la gamba è stato riporto il tempo delle discussioni, che probabilmente ha un per cento di quello che sarebbe dovuto essere basato alla mente con la legge del Presidente, che al nostro avviso lo sta facendo dal Presidente, garantizza dei diritti dell'aula che sta facendo dal Presidente di maggioranza, con contingentamento al numero in mezzo del 100% e dalla bella in questi servizi gruppi di opposizione, ritirati, e poi da contribuire in presentazione della rispettiva lista di i propri indiettamenti. Ma veniamo a quest'altra delibere indiettamenti, deliberazione che abbiamo esercitato per esercitare i cambiamenti della fine di voi e unico a quest'altra delibere indiettamenti di protezione di un po' di sarebordissima. Perché il conto è questa parte, il conto è per fare cassa, in un contesto in un suo bilancio nato a 400 milioni indietro, e con 400 milioni indietro, perché ha riportato la pressione fiscale con un bilancio nel 2012, a un livello sostenibile. decida di prendersi degli uomini, ma non è veramente una sfida, anziché fare una parte, una parte, una parte, una parte, un'ottima, 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 un'ottima. E mettere a te, questi uomini, invece, sono sfidati da 12340 cento, 150 cento al mese. Per esempio, in quanto vengono, mi hanno aggiuntato le case, e sicuramente i compri hanno già accetto le case, e con delle condizioni risponde. Quindi il compri che cosa fa? Quando il proprietario incassa il libro, quando invece il condottore vuole, per esempio per quanto riguarda le serie dei luoghi che servono tutte le commissioni, li pagano la passione, ad esempio per questi due botti che ci dava per quasi 15 milioni di euro all'anno. Poi si dice, però, non ci sono le soldi, e quindi si aumentano le case sul cittadino e le tere delle eservenze. E' chiaro che non ci sono le soldi, perché, come dice l'OF, questa sorta di pepone, cassata, nel senso che, dice sempre, non ci sono le cose giuste, ma non ci sono le soldi al bilancio a qualcuno che è che non ci sono le soldi. L'OF dice appunto questo, che bisogna fare una politica di entrare sempre. Questo è quello di una caratteristica, che anzi che valorizzano, farlo è quello che si deve. Applicare dei cambi di affitto al riguardo al mercato, poi non solo fare questo, ma addirittura, la legge delle eservenze dei vostri, e delle loro scoppi, finata di fretta del 30%. E già da questo, noi che invitiamo, con forza nostra, di rinnovamento, di rinnovamento, di rinnovamento e di rinnovamento che avremmeno un testamento di rinnovamento del nostro consigliere, presidente della direzione, vale con peribili, che è stato depositato, ma già è fatta per un procedimento che non è veramente importante. Fuori l'opinologia di credito è 40% di sconti che abbiamo dei nostri presenti. Oppure è stata lì nell'ambilazione dello sconto che non è 30% a chi non ha avuto, cioè a chi non ha avuto regolarità. Grazie. Ebbene, quando ho detto su questo, il mio figlio di Chiaro, però, nel senso che, con quanta mila dei casi, all'unico produzione vera e seria di quest'autore, che con l'altra, con la visita di Chiaro, con la visita di Chiaro, è stato depositato da fuori, principale di notte, è l'unica saga. Grazie a questo, quando siamo riusciti a fare un po', a giustare un po' la delibera, da questo punto di vista, nel senso che ridurre quello sconto, c'è un po' la delibera, cioè nel senso che ridurre quello sconto, che ridurre quello sconto, che ridurre quello sconto, che ridurre quello sconto, che ridurre quello sconto. E' un'altra cosa che ridurre quello sconto, che ridurre quello sconto, che ridurre quello sconto, che ridurre quello sconto. che ridurre quello sconto, che ridurre quello sconto, che ridurre quello sconto. Una cosa, davvero, perché nemmeno questo concordo, è una notazione anualità e in determinatezza della delibera. Altra cosa, che ridurre la delibera, che speriamo di aggiustarvi, come l'Esta, non che resta una delibera, comunque, invotabile per la propria giustiata. E da un ultimo discorso, il discorso che dovrebbe essere destinato a questi importi, che sono totalmente laburosi, nel senso che si dice ad esempio che una parte dei soldi debba essere impiegata per non necessari scopi culturali, direi iniziali perché direi una parte che non debba essere realizzata per nuove inizie in residenziale pubblica. Anche su questo sarà parlato, abbiamo presentato numeroso, per fare in modo che questi soldi, se proprio dobbiamo vendere, siano impiegati per venire, non per non necessari scopi culturali, come gli immobili che si lanciano ieri, c'erano i segnali per queste criminalità, ma perciò veramente serve ai cittadini in vita di qualificare il patrimonio che abbiamo, perfino che le delle indirizie in residenziali pubblica in questo sito, per risolvere un problema addosso che abbiamo, quindi dell'emergenza di vita. E per fare la protezione straordinaria di questa città, la protezione straordinaria dei cittadini chiedono un giorno di protezione straordinaria delle scuole che sanno letteralmente nella protezione. Questi sarebbero sistemi con cui un patto di vita, e di chiediamo, e a posto di vita, se non volete stare nata per qualche settimana, con cui questa delibera può essere raggiungata, perché il complesso resta tuttavia una delibera del tutto scrivete di carta, perché come un po' di conto di vita che si vede in gioielli, e quindi effettivamente procrastina, credente del fabbricato, e sapete in netto, nel vento, nel vento, nel vento, nel vento, nel vento, nel vento, nella fase di tutto, recessiva del mercato, a scherzare quello che semplicemente dovrebbe essere fatto, di una virtuale classe, e di una valorizzazione di un'esperanza che vuole dire che ha iniziato un'imagine. e di una voleva stessa in migliorare. e di una vuole stessa in migliorare. e di una maestra nuova di bambina è tutto quello che si sta obbricando, è tutto questo che rischio aiuta.. O la prima volta della città, è tutto questo, quando mi ricorda da questa situazione. e tutto questo è stato, è tutto quello che si trattato, Grazie a tutti.